50 anni fa, ed esattamente nel 1974, nasceva Telefano, la prima tv della città. Fondatori e protagonisti di questa avventura, tre giovani fanesi, che con audacia, intuizione e soprattutto passione avevano costituito una società artigianale, acquistato un videotape Panasonic a nastro e provato le telecomunicazioni. Si tratta di Oddo Canestrari, Mario Farnetti e Maurizio Tomassini. Della storia e dei racconti ancora ben impressi nei ricordi di quell'epoca, se ne è parlato giovedì scorso, alla chiesa del suffragio di Fano, nell'ambito del ciclo di incontri organizzati durante la lunga estate fanese. È nato da tre giovani che misero insieme le loro capacità, anche curiosità e anche relazioni, per far partire un'attività, che era un'attività artigiana, con una società che venne definita Video Center. Chi erano i protagonisti, oltre a voi tre fondatori? Noi poi, nel passaggio che c'è stato tra la fase, diciamo, di avvio con la società artigiana e poi la cooperativa Telefano, noi facemmo poi da tramite, assieme anche ad altri amici, per costituire il gruppo che fondò la televisione. Voi avevate proprio steso i cavi in tutta Fano? Sì, perché non si poteva trasmettere. C'era il monopolio della RAI e naturalmente la trasmissione in via Etere erano sanzionate. Quindi noi andammo a Biella, dove andammo a vedere un tipo di televisione che aveva iniziato a mettere insieme, diciamo, gli utenti con la rete del cavo e quindi, prendendo da questo spunto di Biella, a Fano facciamo la stessa cosa. 19 dicembre 2005 nasce Fano TV. A rivedere dopo tanti anni questa TV, che significato ha per voi? Per noi è stata una cosa bellissima, perché vedere una televisione con quelle tecnologie e con quella capacità di mettere assieme con anche un nuovo modo di intendere la televisione, per noi fu una, diciamo così, una fase nella quale noi vivemmo la nostra fase pienioristica e capimmo cosa oggi la televisione è e continua ad essere. Mario Farnetti, lei curava la parte tecnica soprattutto? Curavo la parte tecnica e facevo anche l'operatore, quello che fa lui lì dietro la telecamera. Che ricordi ha di quel periodo? Eh, ho tanti ricordi, perché fu un periodo importante per la mia vita, perché determinò poi la mia vita successiva. Io poi ho fatto il giornalista, ho lavorato in televisione e quindi, cioè non c'è un distacco tra la vita di allora e la vita di dopo. Da Telefano passai poi ad altre cose, passai alla RAI, passai alla DN Kronos, passai anche al Vaticano, ecco, alla televisione, all'Agenzia Televisiva del Vaticano, della Santa Sede. Sergio Schiaroli, lei è uno dei collaboratori di Telefano, quindi ha vissuto questa TV dalla nascita, dal 1974. Quali erano i suoi compiti? Beh, diciamo che io seguivo soprattutto la parte sportiva e facevo le telecronache dell'Alma Juventus, però seguivamo un po' tutti gli sport, anche la pallavolo, ma anche tutti gli altri, anche gli sport minori. Era un periodo di grande entusiasmo, perché? Perché furono gli anni in cui l'Alma Juventus-Fano andava molto forte, addirittura visse il campionato di Serie C. Tanto è vero che tra i filmati che sono rimasti abbiamo poche cose ancora di questi vecchi filmati, però si intravede qualcosa di quel momento, che fu appunto la promozione in Serie C, quando ci fu l'invasione di campo di tutti gli sportivi per festeggiare, e ci fu questo, in particolare, ci fu questo scudetto, grande scudetto preparato dagli studenti, dagli tifosi, scusa, che era attaccato dai palloncini che si è venuto volare verso l'alto, invece in realtà andò parallelo al campo, andò a finire dentro la rete, per cui fu un buato di tutti gli spettatori presenti.